buongiorno e buona domenica dai nostri randaggini che siamo riusciti piano piano a conquistare la loro fiducia ancora aspettiamo un altro pochettino e poi prenderemo la femmina la facciamo sterilizzare e appena abbiamo posto ovviamente li teniamo nel nostro rifugio ecco lei che vuole i grattini vero bella si avvicina si avvicina sempre di più perché vuole essere grattata sono dolcissimi lui è bello di nome di fatto vero amore e lei è bella anche lei di nome di fatto ma fatti vedere bellissima tutti e due meravigliosi ma quanti grattini vuoi amore ovviamente ora aspettiamo un altro pochettino gli facciamo prendere molta più fiducia di noi ci aspettano tutti i giorni di mattina e di pomeriggio per mangiare il posto ovviamente tranquillo non è non sono a rischio assolutamente hanno le loro ciotoline vero e poi li mettiamo mettere dentro un box è una parola brutta però li mettiamo in sicurezza e cerchiamo adozione per questi due bimbi ok noi adesso andiamo e diamo da mangiare agli altri e i suoi piccolini ciao a tutti e buona domenica da noi buona domenica da noi